E questo pomeriggio a Campobasso, nella sede dell'ACEM, si è tenuto il primo degli incontri organizzati proprio dall'associazione con i candidati presidenti della giunta regionale. Vediamo. Il settore delle costruzioni in Molise potrebbe rappresentare un volano e fare da traino per tutta l'economia regionale. Ne sono convinti gli imprenditori edili, che però con le loro aziende attraversano un periodo buio a causa, prima di tutto, dei mancati pagamenti. Sono quattro i punti rimarcati dall'ACEM. Sono tre o quattro punti, ma sono fondamentali, tra cui troviamo il conto corrente dedicato, la centrale di pagamento, ma soprattutto e senza dubbio il pagamento del pergresso. I debiti della pubblica amministrazione sono di contratto negli anni precedenti, vanno saldati con le imprese, altrimenti le imprese non hanno la liquidità per poter andare avanti. Il rilancio dell'edilizia in Molise rappresenta poi una spinta per tutta l'economia regionale? Beh, sicuramente. L'edilizia era il settore trainante, si diceva, in questa regione. Ora purtroppo il settore deve essere trainato perché non ha più la forza di andare avanti da solo. Se l'edilizia, unita ad altre attività, che potrebbero essere il turismo magari, messa insieme, diciamo che possono rappresentare sicuramente il valore aggiunto per questa regione e farla diventare uno scrigno di regione appetibile alle persone che vengono da fuori. Di Niro, occorre anche, occorrerebbe, uno snellimento delle procedure burocratiche? Beh, sicuramente, quello è alla base. Meno documenti, meno carte, come le chiamiamo noi, ci sono e più tempo possiamo dedicare ai nostri uffici, ai nostri cantieri, ma soprattutto al rapporto anche con gli operai che in questo momento ci hanno dato una grossa mano perché capiscono che le imprese sono in difficoltà di mancanza di ossigio, di denaro da parte della pubblica amministrazione.